Quando è stata la tua prima Mariapoli e cosa è stata per te? La mia prima Mariapoli è stata proprio quella del 1959. Io avevo conosciuto il Movimento dei Focolari e ne ero stata pienamente coinvolta nel maggio di quello stesso anno. In luglio ho conseguito brillantemente la mia laurea in giurisprudenza all'Università di Roma. Mi ero appena laureata, il giorno stesso della laurea mi ricordo che ho scritto ai miei genitori chiedendo come regalo per questa laurea di poter partecipare alla Mariapoli di Fiera di Primiero. Non era una cosa del tutto semplice perché dalla Calabria a Fiera di Primiero si percorre tutta l'Italia. Una ragazza da sola calabrese in quei tempi là non era del tutto facile ma ce l'ho fatta. E' stato bellissimo fin dal treno perché intanto ad ogni stazione c'era qualcuno che saliva per andare in Mariapoli e subito si cominciava a costruire questa realtà di famiglia. Mi ricordo a Firenze è salita una famiglia tutta intera con i bambini, col pranzo a sacco. Abbiamo fatto veramente una grande comunione fra tutti. C'era mi ricordo una infermiera che non andava in Mariapoli, che era nel nostro scompartimento e che vedendo questa realtà che c'era fra di noi si è incuriosita e alla fine ha detto ma non posso venire anch'io e ce la siamo ritrovata in Mariapoli anche lei. Quindi già questo costruiva questa cosa. Arrivata in Mariapoli è stato sperimentare i disagi materiali. Nell'alloggio, non so, a pranzo c'era magari uno aveva il cucchiaio ma non aveva la forchetta e l'altro aveva la forchetta ma non aveva il cucchiaio. Allora, secondo quello che si mangiava, ci si aiutava anche in queste piccole cose, questi disagi materiali, ma nello stesso tempo una grandissima gioia. Una grandissima gioia. Ricordo una persona che mi aveva accompagnato alla discussione brillante della tesi di laurea e che mi vedeva lì in Mariapoli a pulire, nella cucina della scuola dove eravamo alloggiati, a pulire una montagna di fagiolini che preparavamo per il pranzo e guardandomi mi ha detto ma incredibile, ma tu sei più contenta oggi di quel giorno della tua tesi di laurea? E io ho detto ma certo, non c'è confronto e sentivo realmente che era questa la gioia più grande e veramente anche tutto poi contribuiva a questa gioia. È stato lì in Mariapoli che io ho anche incontrato Chiara. Chiara quella a Mariapoli era molto nascosta perché era un momento in cui le era stato chiesto di non essere troppo in evidenza. Quindi anche se nelle Mariapoli precedenti era Chiara stessa che parlava, che portava la sua testimonianza ai mariapoliti, in quella Mariapoli non lo poteva fare. Però era lei che preparava questi temi che poi le prime focolarine, i primi focolarini trasmettevano a tutti i mariapoliti. Ed era molto forte questo perché tutti sapevano che erano temi che aveva preparato Chiara ma tutti sentivano che attraverso quelle parole non parlava l'una o l'altra delle focolarine ma parlava Gesù stesso che aveva dato a Chiara l'ispirazione di dire quelle cose. E in quella Mariapoli del 59 sono stati infatti i primi temi sui punti della spiritualità che poi sono stati raccolti e stampati. Quindi era il momento in cui Chiara dava veramente a brani e a brani tutta la spiritualità che era nata nel movimento fino a quel momento.